Guardiamo insieme espressioni e microespressioni e poi lo commentiamo. Movimento 12 unilaterale, movimento 15 più 17 bilaterale, qui c'è una splendida microespressione e subito dopo un altro movimento 2. Qui abbiamo un movimento che abbiamo già visto, il movimento 12, innalzamento degli angoli delle labbra. Unilateralmente da una sola parte del viso, la decodifica, non è sorriso ma disprezzo. Io sono qui, il movimento 15, abbassamento degli angoli della bocca, muscolo triangolare, sono due, e 17, muscolo mentale, innalzamento. 15 più 17, decodifica, dubbio. Sto facendo questa campagna elettorale e la sto impostando. Il dubbio non si esprime solo con il movimento 15 più 17 e qui abbiamo l'occasione di vederlo in una vera e propria microespressione. Movimento 2, muscolo frontale e porzione laterale, unilaterale in questo caso, velocissimo. Decodifica, appunto, dubbio. No, nessuna intenzione di perderla. Abbiamo un altro movimento 2 alla fine del video, questo, ma che, conoscendo la baseline di Enrico Letta, sappiamo essere un illustratore. Qualcosa che lui utilizza per specificare, mentre parla, quello che sta dicendo, per indicare forza a quello che sta dicendo. Da non confondere, quindi, con la microespressione che, invece, essendo velocissima, ha una decodifica diversa. Quanti dubbi hai sul dubbio? Ho preparato un altro video, che pubblicherò a breve, sulla differenza della decodifica dubbio. Quando significa perplessità, scetticismo, insicurezza e quando, invece, significa vera e propria menzogna. E poi, come sempre, starà a te decidere quello che vedi.